...di tutto, bisogna iniziare ad agire, quindi a me è piaciuto e sono stata orgogliosa che il vecchio di dentivo mi abbia interpellato per assumere questa carica, però soprattutto io l'ho assunta volentieri perché il Delfino Azzurro è un'associazione che ha basato la sua attività nell'azione, nell'agire, non tanto di fare per bello nelle tavole rotonde o di vergonia o di autore dell'italità, no? Ecco, ma ha basato la sua azione nell'agire dove? Nei posti proprio dove l'anziano quando ha dei problemi o anche quando non ha dei problemi, ma anche ha delle situazioni familiari, oggettive o di criticità, si ritrova, si ritrova solo perché chi non ha famiglia, chi non lo vanno a trovare nessuno, perché gli amici sono già andati oppure sono in condizio di essere, quindi ha basato la sua azione proprio sul fare nel momento e nella fase della vita in cui la maggior parte della popolazione che si trova in alcune circostanze è abbandonata. Quindi sempre con l'etica del fare guardiamo di sviluppare anche tutti gli altri progetti. Io sono a disposizione perché sul fare vi trovate.